A Pescara quest'anno la cerimonia si è svolta all'Aurum, un evento solenne da condividere con i cittadini al servizio dei quali operano ogni giorno le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Sicuramente è un momento di festa ma che cade in un periodo segnato da guerre, tensioni sociali e cambiamenti climatici. Tutto questo ha sottolineato nel suo intervento il questore Carlo Solimene alimenta naturali sentimenti di smarrimento e di paura che il poliziotto è chiamato a lenire fornendo al cittadino rassicurazione e sicurezza. Quindi rivolgendosi ai poliziotti ha ricordato che garantire il libero esercizio delle libertà individuali ed assicurare al tempo stesso la sicurezza collettiva è il compito difficile a cui siamo chiamati. La sfida è proprio quella di dare a questi termini ogni giorno un nuovo contenuto dettato dalle esigenze dei tempi. Insomma come recita il tema celebrativo della giornata esserci sempre affinché la sicurezza e la sua percezione reale passino dall'ascolto di chi ha bisogno, dal saper dare risposte tempestive a chi è in difficoltà dal contatto con le persone. Ed in effetti è proprio con le persone che la Polizia in questa giornata speciale vuol condividere i festeggiamenti per il suo 172esimo compleanno.